Sessore Santilli, cosa cambia da oggi nelle scuole, anche ovviamente di Pescara, alla luce delle decisioni del Governo, meno DAD per vaccinati e guariti? Questa è un'ottima scelta che è stata fatta, così evitiamo che i bambini stiano a casa perché è bene che loro siano in presenza a scuola. Quindi cambieranno in questi termini. Praticamente fino alla scuola primaria, quindi alle scuole elementari, la DAD si attiverà solo se in una classe ci saranno cinque positivi, altrimenti la classe starà a scuola regolarmente. Invece da salire dalla prima media in su alle scuole superiori, se ci sono due ragazzi positivi in ogni classe, si attiverà la DAD. Noi siamo soddisfatti di questa scelta perché i ragazzi tornano tutti quanti a scuola. Già da oggi con queste nuove regole ci sarà un nuovo afflusso a scuola, ma anche per i ragazzi più piccoli innanzitutto perché ci sono i bambini che mangiano a scuola, quindi anche per le famiglie è un grande sollevo. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna continuare a rispettare le regole fino a quando non saremo completamente fuori.